Pronostico eliminati Grande Fratello VIP 2 fuori Ignazio Moser e Lorenzo Flaherti presto ci sarà una terza eliminazione e avverrà con un meccanismo crudele come anticipato da Ilari Blasi, 28 novembre 2017 a Gigi, 28 novembre 2017, 22.05 Silvana Palazzo Pronostico Grande Fratello VIP Chi sarà eliminato c'è ancora grande delusione per l'eliminazione di Cristiano Malgioglio nel corso della semifinale del Grande Fratello VIP 2017. Il pubblico avrebbe voluto avere la possibilità di seguire il paroliere anche in quest'ultima settimana ma Malgioglio è stato invece buttato fuori dalla casa da Ivana Marazzova, eppure c'è chi sul web ritiene che sia proprio lui il vincitore morale di questa edizione Ma cosa volete che importi a Malgi di arrivare o all'ultima puntata? Lui ha vinto il GF VIP 2 come la Marini, dichiara infatti una fan sui social, che ancora motiva il suo paragone cinquantesimo anno scorso Chi si ricorda del vincitore 2016? La Marini invece quando va in tv fa ascolti, la stessa cosa succederà per Malgi, sarà sempre in tv con un mucchio di ospitate a lui interessava questo conclude Anna Montesano Ignazio Moser riabbraccia Cecilia Rodriguez e la sua family Ignazio Moser è stato il primo ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 2017 ieri sera, uscito dopo il televoto perso con Cristiano Malgioglio Il ragazzo da una parte è stato felice di essere uscito fuori dalla casa per riabbracciare Cecilia Rodriguez con la quale ha iniziato una splendida storia d'amore all'interno proprio della casa È stata proprio la sorella di Belen a pubblicare una foto che ritrae quella che è stata la sua family all'interno del programma di Canale 5 Ovviamente c'è Ignazio Moser e suo fratello Jeremias Rodriguez, ma anche altri due personaggi usciti dalla casa ormai da un po' Da un lato c'è il comico Gianluca Impastato che è stato squalificato per un'imprecazione e poi anche la pallavolista Veronica Angeloni che invece ha perso al televoto Voto! I cinque eliminati saranno dispiaciuti di aver perso la finale anche se il clima è molto rilassato In studio a Canale 5, clicca qui per la foto e i commenti dei follower AGG, di Matteo Fantozzi Il messaggio di Lorenzo Flaherty per Daniele Bossari Lorenzo Flaherty non è riuscito a conquistare la finalissima del Grande Fratello VIP 2017 L'attore romano che, all'inizio della sua avventura nella casa ha dovuto superare diverse nomination e che ha potuto continuare la sua avventura solo grazie al biglietto di ritorno, si considera comunque un vincitore perché in finale c'è Daniele Bossari Il primo post dell'attore su Instagram, infatti, è stato dedicato proprio al conduttore Lorenzo ha condiviso un fotomontaggio cinque Lorenzo e Daniele che nella casa hanno legato tantissimo, sorridono insieme nei panni di signori d'altri tempi Lorenzo Flaherty, partito in punta di piedi, è riuscito a trovare il suo posto nella casa conquistando una fetta importante di pubblico L'attore, infatti, ha perso la finale solo per avere sfidato un personaggio forte come Luca Onestini Cliccate qui per vedere il post-aggiornamento di Stella di Benedetto Alberto D.A.N.D.O.L.O. si schiera con Malgioglio dopo Gabriele Parpiglia Anche Alberto Dandolo si schiera con Cristiano Malgioglio Il paroliere, ad un passo dalla finalissima è stato eliminato dal pubblico che gli ha preferito Ivana Marazzova Anche il giornalista, esattamente come parte del pubblico del grande fratello VIP 2017, avrebbe voluto vedere Malgioglio in casa anche in quest'ultima settimana Su Instagram, infatti, Dandolo ha scritto rispetto alla decisione del pubblico ma posso dire che tristezza, anzi che bassezza far uscire la Malgi alla semifinale Ha un passo dalla sua massima soddisfazione Alberto Dandolo, dunque, non nasconde la sua delusione Nel, bene e nel male, Malgioglio è stato uno dei grandi protagonisti del grande fratello VIP Il popolo dei social, però, è convinto che il paroliere abbia pagato la scelta di votare Luca Onestini e Raffaello Tonon Come i concorrenti che non si meritavano la finale Una mossa che i telespettatori non avrebbero gradito al punto da preferirgli la modella cieca Cliccate qui per vedere il post-aggiornamento di Stella di Benedetto Cristiano Malgioglio elogiato da Gabriele Parpiglia Un lungo messaggio di Gabriele Parpiglia ha accompagnato la prima notte da uomo libero di Cristiano Malgioglio L'attore ha avuto modo di lasciare il programma allo scontro con Ivan al televoto e ad accoglierlo c'è stato il suo amato pubblico Dopo un bacio a Jeremias Rodriguez, il paroliere ha preso posto al tavolo per parlare dei suoi momenti migliori e peggiori Ma, sicuramente, dietro le quitte ha avuto subito modo di parlare con Gabriele Parpiglia Che lo ha accolto come un grande combattente dedicando proprio a lui un lungo messaggio che poi ha postato su Instagram Parpiglia ringrazia il 72enne di aver partecipato ed essersi messo in gioco Scrivendo grazie Cristiano concorrente, autore, attore, artista, battutista, portatore sano di buon umore, inventore E potrei andare avanti per ore e ore Si acchiara una cosa Cristiano ha 73 anni, ripeto 73 anni, nella vita realizzato forse più di quanto potessi immaginare Banale citare le sue canzoni per Mina, il suo cv racconta, raccanta molto altro ancora Le generazioni che crescono e cresceranno, ascolteranno sempre le sue canzoni Ma il messaggio non finisce qui e rivela anche le parole che Malgioglio gli ha rivolto durante la pubblicità Ha preoccupato che il pubblico sia rimasto deluso dal suo comportamento P.S. Cristiano quando è uscito mi ha detto due cose Ho sofferto ma ho fermato tutto Parpi, mi vogliono bene fuori Vedrai Cri, vedrai la reazione di un'Italia che è pronta a castigarti o a fustigarti ma solo con i M-M-E-N-Z-O-I-I-O Come diresti tu affetto, avremo modo di rivederlo in tv Clicca qui per leggere il messaggio integrale Edda Ho per nessuna sorpresa nella semifinale Nessuna sorpresa di spicco ha avuto luogo nella semifinale del grande fratello VIP 2 Che ha segnato l'eliminazione di Ignazio Moser, Lorenzo Flaherty e Ignazio Moser I tre concorrenti non si sono afflitti più di tanto per l'uscita dalla casa Ad un passo dalla finale l'attore è andato persino più avanti rispetto alle aspettative Considerando che solo la busta nera lo aveva salvato dall'uscita dal programma Ben felice di riabbracciare la sua Cecilia È stato Ignazio Moser che ora potrà vivere questa relazione lontano dalle telecamere chissà se durerà Un discorso a parte merita invece il terzo eliminato del giorno Quel Cristiano Malgioglio che avrebbe rappresentato l'unico non giovane della finale Il paroliere non è sembrato affatto dispiaciuto di tale provvedimento Ma non si può dire la stessa cosa da parte dei fan del reality show Tantissimi infatti si sono detti contrari a questo televoto lampo Una settimana senza Cristiano sarà a loro avviso una noia mortale Eppure ormai i giorni sono pochissimi Prima della proclamazione del vincitore A Gigi di Dorigo Annalisa eliminato anche Cristiano Malgioglio Colpo di scena in questa semifinale del grande fratello VIP Due dopo Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio A lasciare la casa più spiata d'Italia Sono loro tre gli eliminati di questa sera Che per un soffio non riescono ad accedere alla finalissima Cristiano fa così il suo ingresso trionfale nello studio Dove tutto il pubblico lo accoglie con un calorosissimo applauso E ovviamente l'ingresso non può che avvenire sulle note della sua mi sono Innamorato di Ruo Marito Il pubblico a casa non è però del tutto felice di questa uscita Ora che è uscito Cristiano come faremo l'anima della casa È andata via ora ci annoieremo tutta la settimana Meno male che è l'ultima scrive infatti un telespettatore Sicuramente quella di Malgioglio è una grande perdita per la casa Anna Montesano Lorenzo Flaherty Fuori Lorenzo Flaherty è stato il secondo a uscire dal grande fratello VIP 2017 Dopo che lo aveva preceduto Ignazio Moser Chi sarà il terzo eliminato di sicuro ci hanno sorpreso L'evoluzione di una serata piena di emozioni E non sappiamo come arriverà questa ennesima uscita dal programma di Canale 5 Ilari Blasi però Prima dei consigli per gli acquisti Ha sottolineato come la terza eliminazione sarà crudelissima In ballo rimangono Cristiano Malgioglio Luca Onestini Ivana M. Zarova e Raffaello Tonon Difficile capire chi sarà ad abbandonare la casa del grande fratello Con Ivana e Raffaello ancora non sottoposti allo stress del televoto Ci potrebbe anche essere una catena di salvataggi oppure potrebbe essere chiesto ai tre finalisti di votare chi far uscire Ricordiamo inoltre che sono già sicuri della finale Giulia Delellis Aida Iespica e Daniele Bossari Manca un'ora circa alla fine della trasmissione Ma le emozioni saranno tantissime A. Gigi Di Matteo Fantozzi Ignazio Moser Il primo eliminato Ignazio Moser Il primo eliminato della semifinale del grande fratello VIP 2017 Il ciclista raggiunge a sette giorni distanza la sua fidanzata Cecilia Rodriguez che ha potuto riabbracciare all'interno della casa Ora è il momento della seconda eliminazione della serata Tramite una catena infatti Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio hanno sottolineato che non si meritavano la finale Luca Onestini e Raffaello Tonon Questi due hanno dovuto poi scegliere a loro volta a chi portarsi dietro E così che li hanno raggiunti rispettivamente Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio ancora Ivana M. Zarova ha dovuto decidere quale coppia mandare al televoto e così a rischio eliminazione ci sono ora Luca Onestini e Lorenzo Flaherty che sono andati al televoto Staremo a vedere cosa deciderà il pubblico, ma non è finita qui Questo perché Hilary Blasi ha già sottolineato che ci sarà anche un terzo eliminato A. G. G. Di Matteo Fantozzi Q. S. C. I. R. A. Chi uscirà questa sera dalla casa del grande fratello VIP La domanda continua ad essere questa e c'è chi spera che non venga divisa la coppia Luca Onestini e Raffaello Tonon Meglio noti ormai come gli Oneston Il pubblico ha imparato ad apprezzare questa amicizia nata nella casa e potrebbe decidere di lasciare i due in casa anche per l'ultima settimana Luca e Tonon sono fantastici Luca è di una simpatia, dovrebbero fare un programma insieme ci farebbero veramente divertire Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita Grande Luca scrive infatti una spettatrice che trova in accordo molte altre persone del pubblico Ma se uno dei due invece venisse eliminato probabilmente il pubblico potrebbe decidere di non dividere la coppia neppure nel male Anna Montessano Onestini e Flyer T. Fuori chi lascerà alla casa del grande fratello VIP questa sera la semifinale purtroppo vedrà più di un eliminato e nella casa sono convinti di restare in quattro ma sono anche convinti di essere gli unici rimasti e che quindi per la finale ci siano ancora almeno tre posti liberi Nessuno sa invece che oltre alla dell'Ellis in finale ci sono anche Aida Jespica e Daniele Bossari cosa che sarà un duro colpo per i ragazzi rimasti in casa ma chi rischia di uscire stasera se ci basassimo sul gradimento del pubblico mostrato in queste settimane questa sera potrebbe abbandonare la casa Luca Onestini, Lorenzo Flyer T. Ignazio Moser che potrebbe uscire già per la nomination sembra invece certo l'accesso alla finale di Cristiano Malgioglio amatissimo dal pubblico a casa che lo definisce l'anima della casa Anna Montessano Ivana Salva grazie a Giulia questa sera andrà in onda la semifinale del grande fratello VIP 2017 ad un passo dalle battute finali ben tre concorrenti verranno eliminati dal gioco chi uscirà secondo i pronostici i più accreditati all'eliminazione sono Ignazio Moser in sfida contro Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flyer T. Al duetto però dovrà aggiungersi un altro concorrente tra Luca Onestini, Raffaello Tonon, Cristiano Malgioglio e Ivana Marazzova chi potrebbe uscire se sul web si urla spazio ai giovani in molti però amano follemente il paroliere siciliano con molta probabilità però proprio Malgioglio potrebbe essere il più accreditato all'eliminazione per il web infatti la coppia formata da Luca e Raffaello dovrebbe essere proprio inseparabile Ivana, grande amica di Giulia, potrebbe contare all'aiuto delle sue bimbe ma come ben sappiamo, le fan della dell'Elis dopo averla portata in finale hanno deciso di tirarsi fuori dalle votazioni della settimana Staremo a vedere se questa sera, l'esperta in tendenze le inciterà a fare lo sforzo finale in favore della sua ciccia Aggiornamento di Valentina Gambino Lorenzo Flyer T. E lei sorpresa Ultimi eliminati per questo grande fratello VIP 2017 che la prossima settimana andrà incontro alla finalissima e che, quindi, questa sera farà razzia di concorrenti Saranno ben tre gli eliminati di questa puntata e i fan sono già pronti a giurare che siano proprio Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser a dover lasciare la casa Ma chi si aggiungerà a loro Lorenzo Flyer T. Non è tra i preferiti del pubblico e nemmeno dei ragazzi della casa che molto spesso lo hanno messo in nomination ma senza molto successo Intorno a lui non c'è stato mai molto rumore ma questa sera potrebbe essere lui la sorpresa della semifinale In molti lo credono già il possibile eliminato della serata ma altri pensano che sia proprio per il suo comportamento e il suo poco scandalo che debba andare oltre e aggiungersi ai finalisti del programma Sarà davvero così Sembra proprio che il suo percorso in casa finirà questa sera magari con la moglie pronta ad accoglierlo con i suoi baci bollenti Cosa succederà ancora Edda O per Cristiano o Ignazio? Sono loro gli ultimi eliminati Chi tra Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser dovrà abbandonare la casa del grande fratello Vip2 Il concorrente più a rischio nella puntata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, è l'ex ciclista I pronostici possono essere ribaltati Ma per il momento il nuovo amore di Cecilia Rodriguez è in svantaggio nel duello con il paroliere Per capirlo basta tastare il polso della rete dei social dove non si collezionano complimenti per il giovane concorrente Come se non bastasse la controversa storia con la sorella di Belen a scatenare l'ira di chi non ha apprezzato il suo comportamento Questa settimana si è reso protagonista di un altro caso Pare infatti che abbia ripetutamente punzecchiato Ivana Marazzova per il suo peso invitandola a dimagrire per tornare ad essere bella L'atteggiamento di Ignazio Moser non è piaciuto ai telespettatori che potrebbero allora decidere di punirlo votando a favore della permanenza di Cristiano Malgioglio nella casa del grande fratello Vip Insomma, l'ex ciclista è sempre più a rischio eliminazione Non sarà l'unica eliminazione della serata Tre Vip saranno costretti ad abbandonare il gioco Considerando che Giulia Dell'Ellis, Aida Iespica e Daniele Bossari sono già in finale a rischio sono Luca Onestini, Ivana Marazzova, Lorenzo Flaerti, Raffaello Tonone Uno tra Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser Il termometro social indica tra i più a rischio Lorenzo Flaerti e chi sopravviverà alla prima nomination Eliminati GF Vip 2 Pronostico Moser vs Malgioglio Ignazio Moser stasera avrà modo di riabbracciare Cecilia Rodriguez visto che il grande fratello Vip 2 la farà ritornare nella casa per qualche minuto ma la coppia potrebbe essere destinata a ritrovarsi definitivamente stasera visto che l'ex ciclista è in nomination con Cristiano Malgioglio e stando all'umore che traspare dai social potrebbe essere Ignazio Moser il principale indiziato a lasciare il reality in semifinale quindi ad un passo dall'ultima puntata vai fino in fondo aveva dichiarato il padre del giovane concorrente incoraggiandolo ma i pronostici non sono a favore del ragazzo e poi, va detto, non è facile sfidare Cristiano Malgioglio uno dei concorrenti più amati di questa edizione del grande fratello Vip per la sua simpatia e spontaneità i telespettatori potrebbero decidere di sostenerlo nel duello con Ignazio Moser nella speranza che riesca poi ad arrivare alla finale del reality visto che è stato uno dei concorrenti più incisivi di questa edizione diritti d'autore e riproduzione riservata potrebbe interessarti grazie a tutti